cari amiche e cari amici prima di leggere un favoloso articolo di dugin tradotto da donato mancuso vi invito a frequentare il sito dell'accademia nuova italia se vi piace il decimo toro questo è il miglior sito di internet un affinità se poi vi piace ne so il calcio la barca a vela no andate da altre parti ma se vi piace il decimo toro non a caso ho accettato il gemellaggio con l'accademia nuova italia perché c'è un'affinità incredibile l'articolo che vi leggo si intitola l'ordine post globale è qualcosa di inevitabile è di alexander dugin tradotto da donato mancuso la crisi che l'umanità sta attraversando a seguito della pandemia da coronavirus ha assunto una dimensione talmente globale che un ritorno alla situazione preesistente è semplicemente impossibile se non si arresta la diffusione del virus entro un mese e mezzo due mesi il fenomeno diventerà irreversibile e da un giorno all'altro l'intero ordine mondiale collasserà la storia ha visto periodi simili che sono stati associati a disastri di scala globale guerre e altre circostanze straordinarie se cerchiamo di guardare al futuro senza preconcetti in modo aperto possiamo prevedere alcuni degli scenari generali o dei singoli momenti che con maggiore probabilità potrebbero verificarsi 1 il crollo definitivo rapido irrevocabile della globalizzazione da tempo che sta da segni di crisi ma l'epidemia ne ha annichilito tutti i principali assiomi le frontiere aperte la solidarietà delle società l'efficacia dell'istituzione economica esistenti e la competenza dell'elite al potere la globalizzazione è fallita ideologicamente il liberalismo economicamente e le reti globali e politicamente leadership dell'elite occidentali la globalizzazione è fallita prima riconosciamo questa particolare svolta più saremo preparati ad affrontare le nuove sfide la situazione è paragonabile a quella degli ultimi giorni dell'unione sovietica la stragrande maggioranza della classe dirigente sovietica si rifiutava persino di prendere in considerazione la possibilità di passare un nuovo modello di stato di governanza e di ideologia e solo una piccolissima minoranza si rendeva conto della vera natura della crisi ed era pronta ad adottare un modello alternativo un mondo bipolare il crollo di un polo ha lasciato solo l'altro e così la scelta è stata quella di riconoscere la sua vittoria copiare le sue istituzioni e cercare di essere assimilati nelle sue strutture questo è ciò che ha portato alla globalizzazione degli anni 90 e al mondo unipolare oggi quel che sta avvenendo giù è proprio il mondo unipolare un fatto che è stato riconosciuto in termini di ideologia economia ordine politico da tutti i maggiori attori mondiali cina russia e quasi tutti gli altri e che è stato accolto con nuovi tentativi volte a ottenere l'indipendenza e a migliorare le proprie condizioni di conseguenza l'elite al potere si trovano di fronte a un problema più complesso la scelta tra un modello che si sgretola nell'abisso e l'ignoto totale in cui nulla può servire da modello per costruire il futuro si può immaginare come ancor più che alla fine dell'era sovietica l'elite al potere si aggrapperanno al globalismo e alle sue strutture nonostante l'evidente collasso di tutti i suoi meccanismi strumenti istituzioni e strutture pertanto il numero di coloro che riusciranno a navigare più o meno liberamente nel caos crescente sarà piuttosto piccolo anche in seno all'elite come si svilupperà il rapporto tra globalisti e post globalisti è difficile da immaginare ma è già possibile anticipare in termini generali i punti principali della realtà post globalista uno la società aperta diventerà una società chiusa la sovranità surgerà a rango di valore più alto e assoluto il bene verrà dichiarato essere la salvezza e il supporto il supporto vitale di un particolare popolo all'interno di uno stato concreto il potere sarà legittimo solo se saprà affrontare questo compito prima di tutto salvare la vita delle persone nel quadro di una pandemia e dei processi catastrofici che l'accompagnano poi organizzare una struttura politica economica ideologica che gli permetta di difendere gli interessi di questa società chiusa in rapporto alle altre questo non implica necessariamente una guerra di tutti contro tutti ma allo stesso tempo determina preliminarmente la principale e assoluta priorità di questo paese e di questo popolo nessun'altra considerazione ideologica potrà prevalere su questo principio due una società chiusa deve essere autocratica questo significa che deve essere autosufficiente indipendente dai fornitori esterni in materia innanzitutto di alimentazione produzione industriale nel suo sistema monetario e finanziario e in relazione al suo potere militare tutto questo diventerà la priorità principale nella lotta contro l'epidemia quando gli stati saranno costretti a chiudersi ma nel mondo post globalista questa rappresenterà una caratteristica permanente se i globalisti la vedono come una misura temporanea i post globalisti dovrebbero al contrario prepararsi a farla diventare una priorità strategica l'autosufficienza nel sostegno alla vita nelle risorse nell'economia nella politica deve essere combinata con una politica estera efficace dove acquistano un ruolo di primo piano le alleanze strategiche la cosa più importante è avere un numero sufficiente di alleati strategicamente e geopoliticamente importanti che insieme costituiscano un potenziale blocco in grado di fornire a tutti i partecipanti una resistenza efficace e una difesa sufficientemente affidabile contro probabili aggressioni esterne stesso vale per i legami economici e finanziari che espandono il volume di mercati accessibili non su scala globale ma regionale per garantire la sovranità e l'autonomia è importante stabilire il controllo su quelle aree da cui dipende la sovranità e la sicurezza di ogni entità sovrana questo rende alcuni processi di integrazione un imperativo geopolitico l'esistenza di enclave ostili potenziali o reali in prossimità minacciosa del territorio nazionale minerà la difesa e la sicurezza pertanto già nella fase della lotta contro l'epidemia è necessario prevedere e definire un certo modello di integrazione il mondo post globalista potrà essere immaginato nella forma di diversi grandi centri di un certo numero di centri secondari ogni polo maggiore dovrà soddisfare i requisiti dell'autarchia si tratta di un modello analogo a quello degli imperi tradizionali ciò implica un unico sistema verticale di controllo rigido in una situazione di crisi con poteri dittatoriali all'autorità suprema piena responsabilità dello stato delle sue istituzioni per la vita e la salute dei cittadini assunzione da parte dello stato della responsabilità per la fornitura di cibo alla sua popolazione entro confini chiusi il che presuppone un'agricoltura sviluppata l'instaurazione della piena sovranità monetaria con la moneta nazionale ancorata all'oro o alla copertura delle merci cioè all'economia reale piuttosto che al sistema delle riserve mondiali la garanzia di un alto tasso di sviluppo dell'industria nazionale sufficiente per competere efficacemente con altri stati chiusi il che non esclude la cooperazione ma solo quando il principio della indipendenza e autonomia industriale non viene intaccato creazione di un'efficiente industria militare e delle necessarie infrastrutture scientifiche e produttive controllo e manutenzione del sistema di trasporto e di comunicazione che garantisca la connessione tra singoli territori dello stato ovviamente per raggiungere i tali straordinari obiettivi è necessario un'elite del tutto speciale classe politica post globalista di conseguenza sarà necessario adottare un'ideologia di stato completamente nuova il liberalismo e il globalismo non sono particolarmente adatti a questo scopo per usare un eufemismo la classe politica dovrebbe essere reclutata tra dirigenti e personale delle istituzioni militari l'ideologia dovrebbe riflettere le caratteristiche storico culturali e religiose di una particolare società e avere un orientamento futurologico la proiezione dell'identità civilizzazionale nel futuro è importante notare che quasi tutti i paesi e blocchi dei paesi moderni sia quelli completamente immersi nella globalizzazione sia quelli che hanno cercato di starne lontani dovranno passare attraverso qualcosa di simile a questo proposito si deve presumere che tali processi renderanno gli stati uniti uno dei più importanti attori mondiali e allo della globalizzazione a potente entità autocratica che si limita a difendere i propri circoscritti interessi i prerequisiti per una tale trasformazione sono già contenuti in parte nel programma di donald trump nella lotta contro le pandemie e nello stato di emergenza ciò acquisirà caratteristiche ancora più distinte anche francia germania sono pronte a seguire la stessa strada finora con misure di emergenza altre potenze europee si stanno già mobilitando in questa direzione con l'aggravarsi e protrarsi della crisi questi processi si avvicineranno sempre più a quanto abbiamo delineato cina è relativamente pronta per una tale inversione di tendenza ideologicamente politicamente in quanto stato rigidamente centralizzato con una pronunciata verticale del potere la cina sta perdendo molto con il crollo della globalizzazione che è riuscita a mettere al servizio dei suoi interessi nazionali ma in generale ha sempre posto un accento particolare sulla propria autarchia che non ha trascurato nemmeno nei periodi di massima apertura ci sono i presupposti per questa evoluzione post globalista in iran in pakistan in turchia in parte e potrebbero diventare i poli del mondo islamico l'india che sta rapidamente rivitalizzando la sua identità nazionale ha iniziato a ristabilire attivamente i legali compaesi amici della regione nel contesto della pandemia predisponendo i nuovi processi anche la russia presenta una serie di aspetti positivi in queste sue condizioni di partenza la politica di putin negli ultimi due decenni volta a rafforzare la sovranità la disponibilità di una seria di una seria potenza militare precedenti storici di piena o relativa autarchia tradizioni di indipendenza ideologica e politica forte identità nazionale e religiosa il riconoscimento da parte della maggioranza della legittimità del modello di governo centralista e paternalista tuttavia l'attuale elitta al potere formatasi in epoca tardo sovietica e post sovietica non sta raccogliendo affatto le sfide del tempo essendo l'erede dell'ordine mondiale bipolare e unipolare globalista e del pensiero ad esso collegato economicamente finanziariamente ideologicamente e tecnologicamente la russia è troppo legata alla struttura globalista il che la rende per molti versi impreparata ad affrontare efficacemente l'epidemia se questa dovesse trasformarsi da emergenza di breve periodo in creazione di un nuovo e irriversibilmente post globalista ordine mondiale quest'elite condividono un'ideologia liberale e basano le loro attività in una certa misura su strutture trans nazionali vendita di risorse delocalizzazione dell'industria dipendenza da beni e prodotti importati integrazione nel sistema finanziario globale con il riconoscimento del dollaro come valuta di riserva e così via né nelle loro competenze né nella loro visione del mondo né nella loro cultura politica amministrativa quest'elite sono in grado di guidare la transizione verso il nuovo stato tuttavia questo stato di cose è comune alla stragrande maggioranza dei paesi dove la globalizzazione e il liberalismo sono stati fino a poco tempo fa considerati dogmi indistruttibili e inconfutabili in questo caso la russia ha la possibilità di cambiare questo stato di cose rendendo lo stato e la società pronte a entrare nel nuovo ordine post globalista è bellissimo questo articolo cari amiche e cari amici riprendiamoci la sovranità popolare quanto prima quanto prima moneta e sovranità popolare grazie amici della nuova italia un pollice su per il mio lavoro è sempre incollati al decimo toro un caro abbraccio a tutti marco cosmo